Fabrizio Lagaip è impegnato in questa campagna elettorale, è candidato all'Ars nelle file del Movimento 5 Stelle, come sta andando? Io direi che sta andando magnificamente, noi il sondaggio lo facciamo ogni giorno, siamo in giro per le strade, nei mercati, conosciamo le persone, ascoltiamo le cittadine, ascoltiamo le loro esigenze e ci testimoniano tutti una straordinaria vicinanza, c'è molta stanchezza nei confronti della vecchia politica che poi abbiamo visto che cosa sta producendo in termini di lista, in termini di proposta per cui la gente, io devo dire che è tutta con noi, io sono fermamente convinto che avremo un'affermazione che va molto al di là delle nostre stesse aspettative A proposito di sondaggi, questa mattina ne è stato pubblicato uno, un testa a testa quasi tra cancelleri e musulmanici, voi siete fiduciosi? Ma ripeto, più che fiduciosi, io ad oggi noi abbiamo avuto l'opportunità di cominciare la campagna elettorale con grandissimo anticipo perché noi sapevamo di essere candidati già a luglio, mentre i nostri competitor hanno litigato fino alla mattina, dal giorno della presentazione delle liste come insomma è sempre stato, noi invece abbiamo cominciato a girare molto prima e io in oltre due mesi di campagna elettorale nei quali ho incontrato i cittadini come dire, ho spiegato i nostri punti, le nostre proposte, non ho ancora incontrato una persona che mi dicesse io voto musulmanici questo non significa che musulmanici non prenderà neanche un voto, sicuramente li prenderà però mi pare di capire che chi vota musulmanici non lo faccia con piacere, lo fa un po' turandosi il naso invece io proprio a questa persona vorrei dire che non è necessario turarsi il naso e votare musulmanici ma nella cabina elettorale si può essere libero e si può votare qualcuno che garantisca un futuro migliore per se stessi ma soprattutto per le nuove generazioni, noi dobbiamo intraprendere un cammino di ampio respiro che vada, come dire, bisogna progettare gli anni a venire, non bisogna pensare a domani, bisogna pensare alle generazioni future è già il momento Cosa potrà rappresentare, in particolare per il territorio agrigentino, la presenza di Angelo Cambiano nell'eventuale squadra di governo di Cancelleri? Angelo Cambiano è una persona che ha dimostrato intanto una straordinaria, come dire, aderenza alle regole che gli è anche costata in termini di serenità personale e familiare Angelo comunque va da sé che anche se chiaramente finora non è stato un membro del Movimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle ha un'apertura nei confronti di tutti, da noi possono venire tutti anzi tutti quelli delle altre liste vogliono venire da noi e possono venire vengono, noi facciamo adesso l'inaugurazione della sede, vengono, si presentano, prendono il caffè con noi non si possono candidare, mi dispiace perché hanno già fatto i due mandati per cui non potranno candidarsi però se vogliono fare volantinaggio, pulire le aiuole, tutte queste cose possono venire con noi sarà veramente straordinario Domenica un appuntamento importante con l'inaugurazione della sede al Villaggio Mosè Sì, noi inauguriamo quella che è una sede, ci tengo a precisarlo, noi non facciamo come gli altri che facciamo il comitato elettorale, giorno 6 smantelliamo tutto noi abbiamo cominciato, abbiamo aperto questa sede che è una sede permanente e questa sede sarà non soltanto il punto dove noi facciamo la propaganda per noi stessi che insomma sarebbe assolutamente riduttivo, anche inutile farlo noi apriamo una sede dove daremo vita a una serie di corsi sull'innovazione, a degli incontri faremo un piccolo laboratorio del futuro, abbiamo già cominciato a fare degli incontri con Alessandro Cacciato che è un esperto per quanto riguarda l'innovazione abbiamo la collaborazione di grandi professionisti noi daremo uno spazio ai giovani, ai talenti che sono quelli che poi alla fine non trovando questo spazio sono costretti a emigrare e andare a Londra cioè noi dobbiamo trovare una soluzione soprattutto per i giovani che è la vera emergenza, i giovani sono il nostro futuro ma lo dicono tutti, noi mettiamo in pratica, c'è questa bella differenza